ok ciao ragazzi amici follower ma anche a voi haters e bimbi minchia un benvenuto a tutti in questo nuovo video oggi vediamo samsung s20 ultra 5g è per un cliente che cambia samsung tutti gli anni l'ho fatto arrivare e ovviamente io che se potevo fare l'unboxing farlo vedere era tutto orgoglioso di questa cosa quindi passiamo al video come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale di lasciare al commento cosa ne pensate di samsung galaxy s 20 ultra un po più corto no è 5g e di mettere un like al video ma soprattutto iscrivetevi al canale passiamo al video allora come dicevo prima questo sarà un breve unboxing giusto per vedere velocemente il telefono e le sue caratteristiche poi come recensione avete visto che ha già fatto tutti quanti l'ha già fatta dalle azzi eccetera eccetera e quindi s20 ultra 5g una bomba una bomba vediamolo subito subito pronti via passiamo all'apertura della scatola poi se volete vi faccio anche un video su come configurare un nuovo samsung da un vecchio samsung allora fotocamera abbastanza sporgente molto bello esteticamente pensiamo fosse un po più pochino più non so come dire un pochino più passa comunque molto bello iniziamolo e intanto procediamo con l'unboxing ovviamente nella scatola la prima cosa che vedrete che vedrete il telefono sotto c'è un'altra parte di non riesco a tirare fuori eccolo qui con clip per rimuovere la sim e le varie cose una cover ha iniziato a fare come wow come show me a regalarti la cover istruzioni e in cinese in giapponese sa in coreano quello che è e in inglese per come partire lo schermo imponente veramente bello poi sotto fast charger fast charger ma push questa la vedo cavetto usb cuffie e qua ci sarà l'adattatore per la spina non sarà mica quella la spina questa è bella dai vediamo un attimino il telefono in configurazione allora bellissimo esteticamente veramente bello la fotocamera secondo me è un po invadente non so come spiegarvelo non so è bello ma è un po troppo spessa lo schermo ovviamente leggermente curvo con fotocamera centrale e a questo punto facciamo la configurazione con e andiamo a vederlo un po più nel dettaglio dai che adesso che l'abbiamo attivato andiamo a vederlo un po più nel dettaglio il samsung s20 ultra a un display da 6,9 in orizzontale qhd da 1440 per 3.200 pixel la fotocamera questa è da 108 megapixel una bomba di telefono questa è la versione 5g presso e 12 giga di ram e la diciamo che anche la fotocamera frontale a 40 megapixel quindi tanta roba anche lì in questa versione è da 128 giga espandibile fino a un terra io ho già ordinato anche un sd da un terra per il cliente perché lui la voleva ovviamente e quindi ci metteremo anche quel altro particolare interessante è la batteria da 5.000 milliampere quindi molto capiente però con uno schermo amulet di queste dimensioni e le funzionalità che ha sicuramente durerà come una batteria da 4.000 su un altro telefono il telefono in mano risulta abbastanza pesante faccio una premessa il telefono è bellissimo e non è una critica nei confronti del telefono però come vedete è un po' troppo spesso secondo me la zona della fotocamera rimane troppo alta non so cioè sento non mi piace questa cosa sono sincero non è una cosa che me lo fa apprezzare più di tanto comunque vabbè de gusti bus ovviamente esce con android versione 10 la cpu è un exynon 990 è un 8 core da quella frequenza 2.73 gigahertz comunque come dicevo prima la rama è da 12 gigabyte partiamo col presupposto che ovviamente è un ip68 resistenza l'acqua quindi si può immergere eccetera io sono sempre dell'idea che un telefono del genere non lo immergerei mai però questo è il mio parere personale è venduto con applicata già una pellicola quindi c'è su una pellicola la motivazione alla somma sono sicuro che voi me lo scriverete nei commenti quindi vedremo poi cosa dite voi 4g e 5g disponibile è proprio la sua caratteristica è questa quindi niente jack per le cuffie e dinamica moled come schermo ovviamente si chiede molto ok in sostanza il design io personalmente perso è un parere mio personale ovviamente preferisco s10 plus uno è più leggero e compattimato mi piace di più ma soprattutto non mi piace la parte che non mi fa impazzire questa camera così sporgente se non avete una buona cover questa camera qua si rovina sicura come loro questo invece è un telefono che in mano è bello da tenere ma soprattutto comunque prestante funzionale come deve essere un telefono che costa una cifra del genere ovviamente questo è una questione di gusti quindi de gusti bus ma rimango dell'idea che non farei il passaggio da ripeto personalmente da s10 plus a s20 ultra 5g parere personale ovviamente a ognuno i suoi gusti quindi se vi piace compratelo non fatevelo mancare ci vediamo al prossimo video